ciao ragazzi ma anche voi capita in un par 5 di avere come secondo colpo un lie della palla in discesa molto inclinato e quindi che colpo bisogna giocare andiamo a vedere ciao sono alessandro pizzi di golf project se ti è piaciuto il video metti mi piace e lascia un commento qui sotto ricordati di iscrivervi al nostro canale youtube e attivare la campanella situazione difficile palla in discesa l'hai della palla molto molto in discesa guardate quanto sono inclinato sono in un par 5 alla buca 14 del golf club monticello e vorrei tirare al green allora oggi vi spiego due modi di fare per il giocatore esperto e per il giocatore diciamo un po meno esperto principiante io ho un legno 3 in mano però che cosa mi aspetto di vedere dal mio legno 3 una palla molto molto bassa tesa e che rotola tantissimo come faccio a giocare questo colpo innanzitutto devo cambiare lo stance e la posizione dei setup come devo assolutamente arretrare un pochino di più la mia palla sul piede destro perché perché se no rischio di prendere prima e fare flappa quindi la palla la metto più sul piede destro diciamo centrepiedi e inclino le spalle come la pendenza un legno tre in mano quindi devo stare attento alla palla che parte molto bassa quindi ovviamente non riuscirò a arrivare due in green però mi partirà un colpo basso e quindi mi aspetterò molto molto rotolo per il giocatore meno esperto il legno 3 è difficile perché ha poco loft prendete un ferro 6 situazione simile quindi palla leggermente più sul piede destro inclinano le spalle faccio uno swing completo attenti a ruotare bene in avanti e distendere le braccia cosa importante che non ho detto la palla più sul piede destro tenderà a partire più a destra quindi mirate un pochino più a sinistra quindi mi metto in posizione miro leggermente più a sinistra palla più sul piede destro swing completo stinger palla perfetta ragazzi provate anche voi lasciate i commenti qui sotto fatemi vedere che palle giocate con la in discesa e iscrivetevi al nostro canale per un golf perfetto grazie a tutti